Un'amica ci dice addio. Atterramo nel parco di Crissyfield dopo il crepuscolo. Non appena il dottor Chase scese dal suo biplano, Annabeth corse ad abbracciarlo. Papà, hai volato? Hai sparato? Oh, santi numi! È stata la cosa più stupefacente che abbia mai visto! Suo padre arrossì? Beh, me la sono cavata bene per un mortale di mezza età, suppongo. Ma le pallottole di bronzo celeste? Come te le sei procurate? Ah, beh, avevi lasciato un bel mucchietto di armi da mezzo sangue in camera tua in Virginia, l'ultima volta che sei... partita. Annabeth abbassò lo sguardo, imbarazzata. Notai che il dottor Chase era stato molto attento a non dire scappata. Così ho deciso di provare a fonderne qualcuna per fabbricare l'involucro delle pallottole, continuò. Solo un piccolo esperimento. Lo disse come se non fosse niente di speciale, ma aveva uno scintillio negli occhi. A un tratto riuscì a capire come mai Atena, la dea delle arti e della sapienza, avesse avuto un debole per lui. In fondo era uno scienziato pazzo coi fiocchi. Papà... Annabeth esitò. Annabeth, Percy, ci interruppe Talia. Aveva un tono urgente. Lei e Artemide erano inginocchiate al fianco di Zoe, fasciandole le ferite. Io e Annabeth corremmo ad aiutarle, ma non c'era più molto da fare. Non avevamo nettare né ambrosia. Le medicine comuni non avrebbero funzionato. Era buio, eppure riuscivo a vedere che Zoe non aveva un bel aspetto. Tremava e il fievole bagliore che di solito la circondava si stava spegnendo. Non può curarla con la magia? Chiesi ad Artemide. Sì, insomma, lei è una dea. Artemide, sembrò turbata. La vita è una cosa fragile, Percy. Se le parche decidono di tagliare il filo, non c'è molto che io possa fare. Ma ci posso provare. Fece per posare la mano sul fianco di Zoe, ma lei la prese per il polso. Guardò la dea negli occhi e in qualche modo si compresero. Ti... ti ho servita bene, mia signora, sussurrò Zoe. Con grande onore, rispose Artemide, piano. La migliore delle mie attendenti. Il volto di Zoe si rilassò. Riposo, finalmente. Posso provare a guarirti dal veleno, mia prode. Ma in quell'istante capì che non era soltanto il veleno a ucciderla. Era l'ultimo colpo di suo padre. Zoe aveva sempre saputo che la profezia dell'oracolo riguardava lei. Era destinata a perire per mano di un genitore. Eppure aveva accettato lo stesso l'impresa. Aveva scelto di salvare me. E la furia di Atlante le aveva spezzato qualcosa dentro. Vide Talia e le prese la mano. Mi dispiace per le nostre liti, disse. Avremmo potuto essere amiche. È colpa mia, rispose Talia, strizzando forte gli occhi. Avevi ragione su Luke, sugli eroi, sui maschi, su tutto. Forse non su tutti gli eroi, mormorò Zoe. Mi sorrise debolmente. Hai ancora la spada, Percy? Non riuscivo a parlare, ma le portai vortice e gliela misi in mano. Lei la strinse con soddisfazione. Hai detto la verità, Percy Jackson. Tu non sei affatto come... come Ercole. Sono onorata che tu abbia questa spada. Un brivido la scosse per tutto il corpo. Zoe, dissi. Le stelle, bisbigliò. Riesco di nuovo a vedere le stelle, mia signora. Una lacrima scorreva lungo la guancia di Artemide. Sì, mia prode. Stanotte sono splendide. Le stelle, ripete Zoe, gli occhi fissi sul cielo notturno. E non si mosse più. Talia chinò il capo. Annabeth inghiottì un singhiozzo e suo padre le mise una mano sulle spalle. Osservai Artemide portare le mani chiuse a coppa sopra la bocca di Zoe e pronunciare qualche parola in greco antico. Un soffio di fumo argentio esalò dalle labbra di Zoe e la dea lo raccolse nel palmo. Il corpo di Zoe tremolò e scomparve. Artemide si alzò, pronunciò una sorta di benedizione, alitò nella mano chiusa e la aprì verso il cielo. La polvere argentata volò in alto, scintillando, e svanì. Per un attimo non vidi nulla di diverso. Poi Annabeth trassalì. Scrutando il cielo, notai che le stelle adesso erano più luminose. Formavano un disegno che non avevo mai notato prima. Una costellazione luccicante che somigliava molto alla figura di una ragazza. Una ragazza con un arco, che correva per il cielo. «Che il mondo ti onori, mia cacciatrice», disse Artemide. «Vivi per sempre nelle stelle». Non fu facile dirsi addio. Tuoni e fulmini stavano ancora ribollendo sopra il monte Temalpais, a nord. Artemide era così turbata ad emanare scintille d'argento. La cosa mi rendeva nervoso, perché se all'improvviso avesse perso il controllo e fosse comparsa nella sua piena forma divina, ci saremmo disintegrati nel guardarla. «Devo salire subito sull'Olimpo», ci disse. «Non sarò in grado di portarvi con me, ma vi manderò un aiuto». La dea posò una mano sulla spalla di Annabeth. «Sei molto coraggiosa, mia cara. Farai quello che è giusto». Scrutò Talia con aria interrogativa, come se non fosse sicura di come comportarsi con quella giovane figlia di Zeus. Talia sembrava riluttante ad alzare gli occhi, ma qualcosa la spinse a farlo e a sostenere lo sguardo della dea. Non sapevo cosa si fossero trasmesse, ma l'espressione di Artemide si addolcì, impietosita. Quindi si voltò verso di me. «Hai agito bene», dichiarò, «per essere un uomo». Avrei voluto protestare, ma poi mi resi conto che era la prima volta che non mi chiamava ragazzo. Salì sul suo carro che cominciò a luccicare. Noi distogliemmo gli occhi. Ci fu un lampo d'argento e la dea svanì. «Beh», sospirò il dottor Chase, «davvero impressionante. Anche se devo ammettere che preferisco ancora Athena». Annabeth si voltò a guardarlo. «Papà, mi... mi dispiace che...» L'abbracciò. «Fa quello che devi, mia cara. So che tutto questo non è facile per te». Gli tremava un po' la voce, ma le rivolse un sorriso coraggioso. Poi udì il battito frusciante di grandi ali. Tre pegasi sbucarono dalla nebbia, due cavalli a lati bianchi e uno completamente nero. «Black Jack!» esclamai. «Ehi, capo!» rispose lui. «Sei riuscito a salvare la pelle anche senza di me?» «È stata dura», ammisi. «Ho portato Guido e timballo con me». «Come butta?» dissero gli altri due pegasi nella mia mente. Black Jack mi scrutò con preoccupazione, poi studiò il dottor Chase, Talia e Annabeth. «Vuoi che mettiamo uno di questi teppisti sotto gli zoccoli?» «Nah!» risposi ad alta voce. «Sono miei amici». «Dobbiamo arrivare sull'Olimpo, alla svelta». «Nessun problema», rispose Black Jack. «Tranne che per quel mortale laggiù. Spero non venga anche lui». Gli assicurai che il dottor Chase non sarebbe venuto. Il professore stava fissando i pegasi a bocca aperta. «Affascinante!» esclamò. «Che manovrabilità! Come fa l'apertura alare a compensare il peso del corpo del cavallo, mi chiedo?» Black Jack piegò la testa di lato. «Che?» «Diamine! Se gli inglesi avessero avuto questi pegasi in Crimea!» continuò il dottor Chase. «La carica della brigata leggera?» «Papà!» lo interruppe Annabeth. Il dottor Chase strizzò le palpebre. Guardò la figlia e riuscì a mettere insieme un sorriso. «Scusami, cara, so che dovete andare». Le diede un ultimo e goffo abbraccio. Quando lei si voltò per salire in groppa al Pegaso Guido, suo padre la chiamò. «Annabeth, lo so, lo so che San Francisco è un posto pericoloso per te, ma ti prego di ricordare che qui da noi avrai sempre una casa. Ti terremo al sicuro». Annabeth non rispose, ma aveva gli occhi rossi quando distolse lo sguardo. Il dottor Chase fece per raggiungere qualcosa. Poi sembrò ripensarci. Sollevò una mano e si allontanò con passo stanco nel parco buio. Talia, Annabeth e io montammo sui pegasi e insieme sorvolammo la baia, puntando verso le colline orientali. Ben presto San Francisco non fu che una scintillante falce di luna alle nostre spalle, con qualche lampo di fulmini a nord. Talia era talmente esausta che si addormentò in groppa a timballo. Doveva proprio essere sfinita per dormire in aria nonostante le vertigini, ma non avrebbe avuto comunque molto da preoccuparsi. Il suo pegaso volava con destrezza, cambiando ogni tanto posizione per assicurarsi che lei restasse al sicuro sulla sua groppa. Io e Annabeth volavamo fianco a fianco. «Tuo padre sembra in gamba», le dissi. Era buio per vedere la sua espressione. Si voltò a guardare indietro, anche se ormai avevamo superato la California da un pezzo. «Immagino di sì», rispose. «Litighiamo da così tanti anni». «Già, me l'hai raccontato». «Pensi che ti abbia mentito?» Sembrava quasi una sfida, pronunciata con scarso entusiasmo, come se lo chiedesse di più a se stessa. «Non ho detto questo, solo che sembra un tipo a posto. Anche la tua matrigna non è male. Forse sono migliorati dall'ultima volta che li hai visti». Lei esitò. «Sono ancora a San Francisco, Persi. Non posso vivere così lontana dal campo. Non avevo voglia di porle la mia prossima domanda. Avevo paura di conoscere la risposta. Ma gliela feci comunque». «Allora cosa farai adesso?» Sorvolammo una città, un'isola di luci in mezzo al buio. Ci sfrecciò accanto così in fretta che era come stare in aereo. «Non lo so», ammise lei. «Ma grazie per avermi salvata. Ehi, non c'è di che. Siamo amici. Non hai creduto che fossi morta?» «Mai». Lei esitò. «Neanche Luke è morto. Cioè, no, non ci credo». La guardai, stupito. Non sapevo se stesse crollando per lo stress. «Annabeth, quella caduta era parecchio brutta. È impossibile che...» «Non è morto», insistette lei. «Lo so». Nello stesso modo in cui tu lo sapevi di me. Il paragone non mi rese troppo contento. Le città ci sfrecciavano accanto ancora più veloci adesso, isole di luce molto fitte, finché tutto il paesaggio non divenne un tappeto scintillante. L'alba era vicina. Il cielo orientale stava diventando grigio. E poco più avanti, un intenso bagliore color avorio, si stendeva davanti a noi. Le luci di New York. «Non male come velocità, eh, capo?» si vantò Black Jack. «Non ci meritiamo una porzione di fieno in più per colazione?» «Sei un vero uomo, Black Jack», commentai. «Cioè, un vero cavallo». «Tu non mi credi sul conto di Luke», disse Annabeth. «Ma lo rivedremo». «È nei guai, Percy. È sotto l'incantesimo di Crono». Non avevo voglia di litigare, però ero proprio arrabbiato. Come poteva provare ancora qualcosa per quel verme? Come poteva inventarsi delle scuse per difenderlo? Meritava di cadere. Meritava... ok, lo dico. Meritava di morire. Al contrario di Bianca. E di Zoe. Luke non poteva essere vivo. Non sarebbe stato giusto. Eccolo. Era la voce d'Italia. Si era svegliata e puntava il dito verso Manhattan, che stava rapidamente entrando nella visuale. «È cominciato». «Che cosa?» domandai. Poi guardai nella direzione che stava indicando. In alto, sopra l'Empire State Building, l'Olimpo era un'isola di luce a sé. Una montagna fluttuante che risplendeva di torce e braceri, di palazzi di marmo bianco che scintillavano nell'aria del primo mattino. «Il solstizio d'inverno», rispose Talia. «Il consiglio degli dèi».